Lo sportello del cittadino è a Taranto, siamo in una zona assai centrale della città, siamo infatti in viale Magna Grecia, vediamo, quasi all'altezza ad angolo con via Pisa e poi proseguendo via Plateia e quant'altro. E' uno snodo certamente importante, molto trafficato e purtroppo dobbiamo segnalare il fatto che i semafori, l'impianto semaforico da almeno una ventina di giorni non funziona, è completamente bloccato, vedete le luci lampeggiano color giallo e quindi questo fa comprendere come non ci sia né verde né rosso. E' un fatto particolarmente pericoloso, è una situazione particolarmente pericolosa perché i cittadini, chi guida ovviamente si trova in una situazione di difficoltà perché essendo un incrocio molte macchine corrono il rischio di scontrarsi e purtroppo di incidenti. Ci sono stati parecchi incidenti anche, anche un pericolo per gli stessi pedoni, insomma una situazione su cui l'amministrazione comunale, rispetto a cui l'amministrazione comunale deve intervenire rapidamente. Perché posso capire il guasto, il guasto è un fatto meccanico e anche umano, ci può stare, però voglio dire dopo tanti giorni, dopo venti giorni penso che sia arrivata l'ora di intervenire. Ecco quello che io dico, benvegano le iniziative dell'amministrazione comunale nel momento in cui propone dei progetti per il futuro, progetti di sviluppo alternativo della città, però poi è bello leggere, poi dovremo vedere i fatti, però stiamo seminando il futuro, però dobbiamo anche curare il presente e il presente si chiama appunto, in questo caso, Viale Magna Grecia, si chiamano appunto i semafori di Viale Magna Grecia con Via Pisa. Quindi l'impianto semaforico di Viale Magna Grecia non funziona, ma vedete anche all'angolo proprio con Viale Magna Grecia l'altro semaforo, appunto siamo in Via Pisa, angolo appunto Viale Magna Grecia, anch'esso non funziona. Ed è un pericolo perché qui c'è l'attraversamento pedonale su Via Pisa, l'attraversamento pedonale su Viale Magna Grecia che porta appunto alla carreggiata opposta e ci sono dei rischi per i pedoni. Il rischio è anche soprattutto nelle ore, oltre alle ore in cui c'è il traffico e quindi è comprensibile il rischio scontri o il rischio di investire qualcuno, ma anche in orari diciamo meno trafficati c'è la possibilità purtroppo, c'è la realtà purtroppo che molte automobili sfrecciano e quindi sfrecciando potrebbero davvero travolgere il passante che attraversa la strada. Vedete gli ingorghi che si creano, penso che ogni altra precisazione, ogni altro commento sia superfluo. Intervenite, signori dell'amministrazione, signor sindaco, chi è preposto al settore, intervenite perché è a rischio la pubblica incolumità. Grazie.